La comunità di Soveria Mannelli dal punto di vista spirituale sta tornando a battere in maniera prepotente grazie a Don Roberto Tommaino che ha raccolto il testimone dei suoi predecessori e sta valorizzando quella che è la natura dei cittadini del nostro comune, una natura che crede nei valori, che ha dei punti di vista precise e che è portata a collaborare nell'interesse comune. Il premio San Giovannino arricchisce di una nuova perla le iniziative che si svolgono all'interno della nostra comunità e che richiama il cariglio d'oro creato da Don Natale Colafati e Rosario Rubettino e che richiama anche il manno d'oro, il premio che l'amministrazione comunale ha istituito per ricordare i cittadini benemeriti. Ecco il San Giovannino che quest'anno è stato assegnato a un testimone in particolare a un testimone di giustizia e di verità che è Gaetano Soffioti, un uomo coraggioso che contrasta la malapianta della criminalità organizzata, non lo fa con le parole, lo fa con le opere con la sua testimonianza di vita e pagando di persona le sue scelte. Allora Soveria Mannelli ha voluto dare questo riconoscimento. La comunità parrocchiale Don Roberto Tomaino ha individuato in Saffioti un testimone di come un cittadino senza essere eroe ma facendo il proprio dovere e assumendosi purtroppo dei rischi come purtroppo si verifica all'interno di territori difficili come i nostri riesce a dimostrare che le cose si possono fare, riesce a dimostrare con la propria vita, con il proprio esempio che contrastare la mafia è possibile, che sconfiggere la mafia è possibile e che ci sono alternative. Questo è un riconoscimento importante che testimonia come sia fondamentale, contrastare la malapianta della criminalità organizzata. Grazie. 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 Grazie.